Tu non mi hai detto che tu mi curavi che mi guardia il giorno? Tu non mi hai detto che tu mi curavi che mi guardia il giorno? Tu non mi hai detto che tu mi guardia il giorno? Voglio sapere cosa vuole Credo sia il momento giusto per intervenire Voglio che mi ascolti mentre ti racconto come ho ucciso Clara Visto che nessuno mi ascolta